Al Treun, ciao Sardegna! Uno, due, tre! Ciao Sardegna! La cosa più triste che dovevo inventarmi, è venuto veramente male. Le manchi molto pantaloni, però mi dà... Anche tu mi mancherai molto, amore, ma guarda che ci vediamo nel weekend, questi giorni ci vediamo, amore. Va bene? Tornate a casa, questo stronzo, questo stronzo qua, appena appicciato su il mio peluche di Murakami, stronzo. Fedez, il celebre rapper e influencer italiano, sta per tornare a Milano, dove si stabilirà nella sua nuova casa. Dopo aver trascorso del tempo in Sardegna, Fedez ha salutato la madre e i suoi figli, che faranno ritorno con Chiara Ferragni. Nonostante la distanza, Fedez ha già espresso quanto sentirà la mancanza della sua famiglia, anche se la vedrà durante la settimana. Nel frattempo, il suo cane Sivio è appena tornato a casa, e non ha perso tempo a fare qualche dispetto. In particolare, ha fatto pipì su un pupazzo di Fedez, il quale è un'opera d'arte contemporanea che il rapper aveva pagato una cifra considerevole. Questo episodio ha sicuramente portato un po' di umorismo nella nuova quotidianità di Fedez, che ora dovrà abituarsi a vivere da solo. Nonostante ciò, l'artista sembra determinato ad affrontare questa nuova fase della sua vita con ottimismo e voglia di ricominciare. Anche tu mi mancherai molto, amore, ma guarda che ci vediamo nel weekend, questi giorni ci vediamo, amore, va bene? Grazie.